Ilario Maggini lo vedremo di nuovo in campo a quanto pare. Sì, penso che l'8-9 di giugno ci sarò. Non mi nascondo che faccio la lista civica, faccio una lista civica non politica perché io sono abituato a non mettermi a cuccia, come si dice, vicino ai partiti perché trovo l'opposto, trovo l'opposto a quella con l'altro, io me lo devo guadagnare nel campo. E prima ancora di parlare di programmi che sono in fase di stesura Maggini ci tiene a precisare che quando era lui sindaco il comune era un comune virtuoso. Io 13 anni fa ho levato tutti i mutui del comune sul piano, tutti lo ha girati, sono diventato il comune più virtuoso d'Italia, fra i comuni più virtuosi d'Italia, ho lasciato tanti soldi in cassa, se io, i sbagli che ho fatto io sono quelli, allora lo rifarei, non sbaglio in quella maniera. Ecco, si torna in campo e ci si ripropone, con quali obiettivi però? Io ho sempre sostenuto che, mettendosi in campo, me l'hanno chiesto, me l'hanno chiesto in tanti cittadini, noi si è fatto un gruppo di cittadini, sono 5-6 mesi che ci si trova e me l'hanno chiesto in tanti cittadini, intanto quel gruppo, la volta passata c'era oltre 60, insomma la riunione, e tutte persone che dicono lì sta, decidi te, però dice noi intanto ti sostieni e questo è una cosa bellissima. Io ho sostenuto sempre che facendo del bene a Subbiano, lo faccio del bene anche a me, perché io sono un cittadino di Subbiano, io mi ritengo un cittadino di Subbiano, se io pago 50 euro di tasse in meno, lo pagano anche i miei cittadini e questo deve, se io mi sento ancora utile e i cittadini mi hanno detto che sono utile, io mi metto a disposizione i cittadini.